A Ispica continua il lavoro di pulizia dei canaloni della Marza curati dal Consorzio idraulico. Della vicenda ci siamo già occupati in passato raccontando le difficoltà riscontrate dal Consorzio ad eseguire i lavori stessi per via di controversie con i proprietari delle abitazioni private che insistano sui canaloni di scolo. In attesa che il Comune costituisca come annunciato un Consorzio pubblico che si occupi della questione, il Consorzio privato continua i lavori ed i corsi di quando i rappresentanti protestavano tutti i giorni in Prefettura davanti al Comune ne sono cambiate. Intanto sicuramente la volontà del Comune e dell'amministrazione perché ha dato una disponibilità al 100% e ha assorbito integralmente le nostre richieste. Questo Consorzio comunale è già partito con una deliberazione del Consiglio comunale e i lavori in parte sono già stati fatti perché due lavori molto importanti sono già stati portati a termine e poi avremo anche gli altri lavori. Si tratta di una situazione che va avanti da tempo e che non è mancata di momenti di tensione e che ha registrato anche diverse iniziative legali di carattere penale. In sostanza molti proprietari devono abbattere muri, alcuni lo hanno già fatto, per facilitare il corso dei canaloni di scuola e per permettere che le acque defluiscano verso il mare ma molti non ci stanno. Le difficoltà su sette proprietà sono state e sono tuttora molto grosse. Nel senso che ci sono tre muri da abbattere in tre proprietà perché il canale è stato sopramesso di un metro e venti. E' stato tentato l'abbattimento di un pezzo di muro in una proprietà in questi giorni poi evitato perché c'è stato un accordo delle parti comune, consorzio idraulico e proprietà hanno trovato una via alternativa. Via alternativa che devo dire è stata molto pesante da fare, è stata molto costosa ma i proprietari hanno detto che va bene così, che accettavano l'onere della spesa perché pagheranno loro, devono pagare loro, lo sanno benissimo. Dal resto l'accordo delle parti è stato siglato davanti a una quindicina di persone e penso che non avranno il coraggio di tirarsi indietro. E anche gli altri dovranno pagare loro. Sono tutti muri su pezzi di canale che hanno qualche problema ma i più grossi li abbiamo già praticamente fatti. Il consorzio va dunque avanti. L'obiettivo finale è quello di evitare l'allagamento delle abitazioni un fenomeno che alla marza si registra frequentemente ogni qualvolta che arrivi la stagione delle piogge. I prossimi passi saranno semplicemente quelli di rimetterlo in piedi da chiedere il piccolo contributo che è sempre stato chiesto fino al 1993 dal vecchio consorzio e risistemare in verità quel poco che rimarrà perché il nocciolo duro dei problemi erano queste sette proprietà. Non c'era praticamente il resto, è tutto un lavoro di ricavatura cioè di abbassamento del canale a cielo aperto che è un lavoro che offre pochissime difficoltà. Praticamente ci stavamo allagando in un bicchiere di acqua perché i problemi erano veramente riferiti a sette, otto persone. Questi canali sono perfettamente utilizzabili.